Buon pomeriggio a tutti e a tutte e bentrovati per quest'ultimo appuntamento, almeno per quest'anno scolastico del ciclo lezioni di scienza di Mondador Education. Io sono Paola Priore e coordino l'area di scienze naturali e integrate della relazione scientifica SS2. Dopo l'ultimo intervento del dottor Marco Noni su scienza ed etica, quest'oggi ci ritroveremo a parlare ancora di CRISPR-Cas9, ma lo faremo da un punto di vista differente, approfondendo innanzitutto la storia di questa scoperta e poi ovviamente parlando delle sue basi biotecnologiche fino ad arrivare ai nostri tuoi sviluppi e le questioni ancora perdere. Tutto questo lo faremo grazie alla voce più portata per farlo qui in Italia, ovvero la dottoressa Anna Meldolesi. Buonasera Anna, benvenuta. Buonasera, grazie. Grazie a te per essere intervenuta. Anna è una biologa di formazione e una giornalista di professione. Il suo ultimo libro, E' l'uomo creò l'uomo di Volatino Ringhieri, è dedicato proprio alla rivoluzione dell'editing genomico. Questo tema è anche al centro del suo blog bilingue, CRISPR-Mania, è membro del comitato scientifico dell'osservatorio terapie avanzate del Festival della Scienza di Genova. Insegna giornalismo scientifico al Master di giornalismo all'Università Yulm di Milano e ovviamente scrive sulle state molto importanti quali Corriere della Sera e sulle scienze. Chi meglio di lei quindi per parlare del passato, presente, il futuro dell'editing genomico e quindi della tecnologia CRISPR, ma prima di lasciare la parola alla dottoressa Meldolesi vi ricordo che se avete domande durante la presentazione potete sottoporcele tramite il modulo fruibile da QR-com sovraimpresso. Al termine della presentazione infatti dedicheremo circa una decina di minuti per rispondere alle vostre curiosità e avviare un piccolo dibattito. Ora lascio la parola ad Anna e buon proseguimento a tutti. Grazie tante. Allora, eccoci qua. Sono molto contenta di essere qui perché se ho deciso di studiare biologia e poi ho incontrato CRISPR-Cas9 sulla mia strada è anche e soprattutto grazie a una brava professoressa di scienze, insomma, per cui è con gratitudine che la ricordo qua. Parliamo di CRISPR, vedete si scrive CRISPR, si legge CRISPR ed è l'abbreviazione di CRISPR-Cas9 come si è detto, è l'invenzione che ha ricevuto il Nobel per la chimica nel 2020, quindi l'ultimo Nobel, che è andato a queste due meravigliose scienziate che lo hanno condiviso, si tratta di Emmanuel Charpentier e di Jennifer Doudna, quindi una francese e una statunitense. L'incontro delle loro competenze diverse, perché uno è microbiologa e uno è biochimica, l'incontro delle loro intelligenze, delle loro energie, ha portato a una collaborazione transoceanica, da cui è nata di fatto l'idea di trasformare un sistema naturale microbico in uno strumento biotecnologico e quindi è nata CRISPR. Questo è l'articolo scientifico firmato dai due gruppi di Charpentier e Doudna che è valso il Nobel. Si tratta di un lavoro che è stato pubblicato su Science nel 2012 e che è proprio l'atto di nascita di questa tecnologia. È un lavoro ovviamente molto tecnico, come tutti i paper scientifici, però diciamo che in questo tipo di lavori che sono dei breakthrough, dei punti di svolta, in genere si ritrova tra tanti dati tecnici, tra tanti due organismi, poi una frase che apre uno scorcio in un'epoca nuova. In effetti è così anche per questo paper, come per il più celebre forse paper della storia della genetica, che è quello di Watson e Crick del 1953 su Nature, che come sapete tutti ha svelato la struttura del DNA e quindi la scoperta della doppia elica. Una cosa curiosa dei grandi paper scientifici, quelli rivoluzionari, quelli insomma immortali, è che in genere è più elegante, è più efficace annunciare una grande scoperta con un linguaggio di basso profilo, con poca enfasi. Questa è proprio una questione di stile della grande scienza. È successo con Watson e Crick, nella frase che ho riportato in questa slide sotto, che è molto famosa, scrivevano «Non è sfuggito alla nostra attenzione che l'appaiamento specifico delle basi che abbiamo postulato suggerisce immediatamente un possibile meccanismo di copiatura del materiale genetico». Ecco, è una frase molto sobria che in realtà sta dicendo «abbiamo capito come questa doppia elica si apre, si riavvolge, può essere copiata e quindi contiene questa struttura, il segreto dell'ereditarietà, il segreto della vita». Nel paper di Dawn Charpentier nel 2012 c'è una frase altrettanto sobria che però ha aperto appunto la nuova epoca biotech che stiamo vivendo, l'epoca di CRISPR e che dice «il nostro studio evidenzia la possibilità di sfruttare il sistema per editare il genoma in modo RNA programmabile». Ecco, è tutta la rivoluzione di CRISPR che viene annunciata con questa frase. Vediamo che cosa vuol dire CRISPR e come si può utilizzare. Beh, intanto partiamo dalla parola che in italiano suona molto molto strana, in inglese diciamo è più divertente perché è piena di assonanze con altre parole. Chi l'ha inventata in realtà si chiama Francisco Moí che è un ricercatore spagnolo e doveva trovare un nome per un fenomeno di sequenze ripetute che aveva trovato in alcuni batteri, è ritornato a casa dalla moglie, gli ha detto «che ne dici se li chiamo CRISPR?» La moglie ha detto «mi sembra il nome perfetto per un cane». Si sono fatte una grande risata e da lì è nato il nome CRISPR che è un acronimo abbastanza ostico perché vuol dire brevi ripetizioni, palindrome raggruppate e regolarmente interspaziate. Ecco, insomma, sembra uno scioglilingua, non preoccupatevi di doverlo imparare. Quello che conta è il concetto. CRISPR è un sistema naturale che è stato individuato attraverso la scoperta di alcuni indizi. Il primo di questi indizi sono state proprio queste sequenze ripetute, quelle che vediamo rappresentate in rosa, ripetute in maniera regolare in una porzione del genoma di molti batteri e anche archeobatteri, delle sequenze che presentano delle irregolarità, per cui sono quasi dei palindromi, quindi quasi speculari, come sa chi ama fare l'enigmistica, e sono appunto regolarmente interspaziate. Vuol dire che tra un segmento rosa e l'altro ci sono degli elementi spaziatori che invece cambiano. Ecco, quando alcuni microbiologi studiando un numero crescente di batteri e di archeobatteri si sono accorti di questo schema ripetuto, di questo pattern, si sono incuriositi, hanno capito che poteva trattarsi di un fenomeno interessante e si sono mezzi a studiarlo. Pian piano si è capito che queste sequenze ripetute sono come dei faldoni che servono per archiviare il materiale, il materiale sono gli elementi spaziatori, questo materiale non è altro che l'identikit dei virus che il batterio in questione, l'archeobatterio, ha incontrato nel corso della sua esistenza, della sua vita e ha sconfitto. Per cui è come se fosse un album fotografico con gli identikit dei nemici catturati e sconfitti e quindi serve per avere una memoria, una memoria immunitaria. In effetti CRISPR è un sistema immunitario microbico che quindi si serve di questa memoria nel genoma grazie a queste sequenze e si serve anche di un altro elemento fondamentale che è l'altro pezzetto del nome della tecnologia quando viene detto per intero, la Cas9. La Cas9 è una proteina, un'enzima, in particolar modo un'enzima che è capace di tagliare il DNA, quindi una nucleasi, che è associata appunto alle sequenze CRISPR, questo vuol dire proprio la sigla Cas. Ce ne sono con diversi numeri, la Cas9 non è l'unica, però è la più classica, la prima che è stata utilizzata per il laboratorio ed è tuttora la più utilizzata, ma ce ne sono altre molto interessanti allo studio che hanno caratteristiche un po' diverse. La cosa straordinaria di questa proteina che qua vediamo in un modellino tridimensionale fatto con una stampante a 3D nelle mani di Dautna, una delle due coinventrici, ha delle caratteristiche che la rendono uno strumento biotech straordinario potenzialmente. Perché? Perché è programmabile, è come se fosse una nanomacchina che può essere programmata a svolgere un compito in maniera molto precisa. Il suo segreto sta appunto in quella molecola arancione che è all'interno dei lobby della proteina e che è la molecola guida, una molecola guida di RNA e che serve proprio per programmare l'azione della proteina, cioè indirizzarla verso il suo bersaglio. Nei sistemi naturali si tratta, questa molecola guida è l'identikit del virus da riconoscere se si ripresenta, nelle applicazioni biotecnologiche questa molecola guida arancione è l'identikit del gene bersaglio che vogliamo modificare. Adesso vi faccio vedere come funziona non più in un modello che quindi è una riproduzione, ma davvero. Infatti dopo che CRISPR era già nata, stava già iniziando a essere adottata dai laboratori di tutto il mondo, un gruppo giapponese è riuscito a filmarla in azione grazie a una tecnica di microscopia molto avanzata che si chiama microscopia forza atomica e quindi possiamo vederla in real time. Ecco la Cas9, quindi l'enzima con la sua guida di RNA è questa specie di globo dorato che vedete si è posizionato lungo un filamento di DNA. La freccetta rosa indica l'attivazione dei domini enzimatici, quindi le forbici di CRISPR-Cas perché la Cas9 è una nucleasi quindi taglia il DNA, quindi i suoi domini enzimatici sono delle forbici molecolari e vedete la freccina azzurra indicava il DNA che veniva reciso, quindi abbiamo visto CRISPR in azione. È una cosa abbastanza incredibile vederla così. Per capire meglio come funziona sia in natura sia in laboratorio, vi voglio mostrare un altro filmato, questa volta si tratta diciamo di un filmato che contiene delle rappresentazioni artistiche di CRISPR in azione. È stato prodotto da uno dei tanti istituti che utilizzano CRISPR per fare ricerca ad altissimo livello. Eccoci qua, iniziamo il viaggio dentro al corpo umano. Ogni cellula, come sapete, contiene due copie del genoma, il genoma è 3 miliardi di basi, circa 20.000 geni, noi ha questa struttura iconica, doppia elica, con le due filamenti che si appaiano secondo una corrispondenza precisa di lettere. In questi 20.000 geni c'è scritto tanto di noi, sia della nostra identità come individui che come specie, anche della nostra propensione ad ammalarci. Per capire le basi genetiche delle malattie è importante accendere, spegnere i geni, modificarli per capire a cosa servono. Ecco, a questo sta servendo moltissimo CRISPR, sta diventando uno strumento davvero essenziale per capire le basi genetiche delle malattie e anche le basi molecolari dei processi fisiologici. Ecco, qui vediamo come funziona nel mondo naturale, siamo sulla superficie di un batterio, è appena planato un fago, un batteriofago, quindi un virus che infetta i batteri, gli sta iniettando il proprio genoma per infettare il batterio. Ecco, vediamo, quelle arancioni sono i segmenti dell'identikit con cui la proteina sentinella, la Cas9, pattuglia la cellula microbica alla ricerca di tracce del nemico. Quando trova questa corrispondenza, quindi la sua identikit, l'RNA guida arancione, trova una corrispondenza con un pezzetto di DNA, che è il DNA virale, vuol dire che c'è un'infezione in atto e quindi lo taglia fermando l'infezione. Daudon e Charpentier hanno capito che sostituendo quella molecola arancione con l'identikit di un gene da modificare, questa molecola, questa nanomacchina, poteva diventare uno strumento biotech per fare modificazioni genetiche di precisione. Ecco che stiamo entrando di nuovo dentro un nucleo cellulare, la proteina Cas9 con l'identikit del gene da modificare, scandaglia il DNA, trova la sua corrispondenza e quindi attiva i domini enzimatici, le forbici molecolari e taglia. A questo punto la soluzione più semplice è lasciare fare il lavoro al sistema di reparazione cellulare. Quando nel DNA si crea una lesione e la cellula cerca di ripararlo, magari aggiungendo qualche lettera casuale, così di solito si ottiene il risultato di disattivare il gene, perché salta il quadro di lettura del gene. Un gene disattivato è utile perché vedendo cosa succede alla cellula o all'organismo quando il gene non funziona più, si può capire a cosa serviva. Ma a volte invece è necessario guidare la riparazione in modo più mirato, come in questo caso, fornendo uno stampo, questo stampo viola, che poi guida la riparazione lettera per lettera in modo che si possa controllare il cambiamento della sequenza. Questo può essere fatto dentro le cellule staminali, che poi possono essere fatte differenziare in tutti i tipi cellulari che compongono un organismo, oppure anche negli ovociti fecondati in modo da ottenere un animale che abbia la modificazione in tutte le cellule. Quindi possa servire per esempio per studiare l'evoluzione di una malattia umana. Le qualità di CRISPR rispetto ai sistemi precedenti di modificazione genetica sono tante, perché è molto versatile, semplice da usare, efficiente, precisa ed è multiplexabile, così dicono i ricercatori, perché dandole diciamo delle guide diverse, degli identikit diversi, si può fare in modo che applichi delle correzioni, più correzioni contemporaneamente. Questo è importante perché tante malattie umane sono causate da più di un gene, quindi è importante studiare, modificare più geni contemporaneamente. A cosa serve CRISPR? serve davvero a tantissime cose, perché? Perché innanzitutto ha sorpreso la comunità scientifica perché è virtualmente universale, cioè funziona in tutti gli organismi viventi in cui è stata messa alla prova, davvero dalle formiche fino ai primati, passando per i coralli, per i pomodori, insomma, davvero per tutti gli organismi viventi con piccoli adattamenti. Quindi ha di fatto innescato un cambiamento, una rivoluzione e nel modo in cui si fa ricerca in tutti i laboratori di scienze della vita, dove per scienze della vita naturalmente si intendono tutte le discipline che utilizzano, diciamo, organismi, hanno a che fare con degli organismi viventi. L'attenzione generalmente si concentra soprattutto sulle applicazioni in biomedicina, che sono molteplici. Ovviamente capire la funzione dei geni può aiutare a identificare nuovi target per lo sviluppo di farmaci, per esempio. Avere dei modelli animali con geni che sono stati modificati per mimare malattie umane aiuta a studiare l'evoluzione delle malattie, quindi questo è un altro settore molto importante. Esistono varianti di CRISPR che oltre a modificare la sequenza delle lettere sul DNA possono modificare quelle specie di targhette che stanno al di sopra della sequenza che possiamo considerare come dei post-it che indicano al macchinario cellulare questo gene non usarlo, questo gene usalo poco, quindi diciamo sono quelle modificazioni chimiche che rendono il gene più o meno accessibile all'attivazione, si chiamano i marcatori epigenetici e anche questi sono molto importanti per il corretto funzionamento del genome, anche questi possono essere modificati con CRISPR. Ma il campo di applicazione che ha attirato più l'attenzione in medicina è un altro ed è la terapia genica. La precisione di CRISPR, il fatto che possa andare a correggere il DNA in situ, in maniera mirata e sito specifica, lo rende uno strumento ideale per andare a correggere i difetti genetici direttamente nelle cellule dei pazienti che sono portatori di una malattia genetica e quindi si sta aprendo una nuova stagione in questo settore della terapia genica come vedremo. Ovviamente le cose da mettere a punto sono ancora tante soprattutto bisogna trovare modi efficienti per portare in sicurezza il macchinario di CRISPR dentro alle cellule, non tutti gli organi sono ugualmente facilmente accessibili ci sono tante cose da mettere a punto, ma l'avventura di CRISPR nella terapia genica è assolutamente iniziata, ci sono decine di sperimentazioni in corso e qualcuna avremo anche il tempo di vederla, di passarla in rassegna. Poi naturalmente ci sono le applicazioni al di fuori della medicina, quindi per esempio per sviluppare varietà di piante che riescano a difendersi meglio dai parassiti per diminuire l'applicazione dei pesticidi oppure che siano in grado di resistere meglio agli stress ambientali per poter affrontare meglio per esempio la sfida dei cambiamenti climatici. Oppure CRISPR può essere utilizzata per modificare per esempio degli organismi unicellulari come delle alghe unicellulari per utilizzarli come biofabbriche per la produzione di biocarburanti o altre sostanze utili, altri biomateriali. Come vedete questo disco contiene le applicazioni che vi ho descritto, ma ne esistono ancora di più e se ne aggiungono continuamente. Ad esempio io le ho aggiunte qua di lato nella didascalia, CRISPR sta alla base di una nuova generazione di test diagnostici, ne sono stati sviluppati anche per il coronavirus della pandemia che è in corso, perché naturalmente CRISPR nasce come un sistema in natura per riconoscere i virus e quindi può essere utilizzato per produrre una nuova tipologia di test diagnostici rapidi, portatili e molto versatili. Un'altra applicazione che invece è un po' più lontana nel tempo ma è molto interessante, si pensa di utilizzare CRISPR per modificare il genoma di alcuni animali, in particolar modo i maiali, in modo da rendere i loro organi compatibili con il sistema immunitario umano per in un futuro utilizzarli come donatori di organi di cui purtroppo naturalmente c'è grande richiesta e scarsa disponibilità. Altre applicazioni molto interessanti di CRISPR, per esempio come immagazzinamento dati. CRISPR consente di immagazzinare in maniera ordinata lungo il DNA una serie di informazioni per cui ad esempio si può codificare un'intera libreria dentro al DNA che può essere conservato in una piccola provetta e si tratta di un modo di conservare le informazioni che può durare secoli. si può fare tantissima ricerca di base, ci sono stati esperimenti davvero molto belli, per esempio per ridipingere le ali delle farfalle, per capire come si creano questi disegni colorati sulle ali di diversi tipi di farfalle e anche moltissime altre cose ancora. quindi davvero CRISPR ha reso possibili esperimenti che prima non si potevano fare e ha reso più facili esperimenti che prima erano molto difficili ed erano solo alla portata di pochissimi laboratori specializzati. quando devo spiegare come funziona CRISPR di solito utilizzo una similitudine che è con il coltellino svizzero perché? perché CRISPR è diventato un tool, uno strumento molto versatile, multitasking nella versione di base che è quella che avete visto agire nel filmato in real time possiamo immaginarla come se avesse una bussola per trovare il punto del DNA in cui dirigersi una morsa per legarsi al DNA in quel punto e delle forbici per tagliarlo ma dal 2012-2013 in poi il coltellino svizzero di CRISPR si è andato accessoriando per cui si sono aggiunte nuove funzioni e questo processo di evoluzione tecnologica è ancora in corso continuano a essere pubblicati tutti i mesi degli upgrade di CRISPR, delle nuove versioni con il contributo di tanti e tante scienziati e scienziate ad esempio come vi dicevo sono stati aggiunti degli accessori perché praticamente la Cas9 è come se fosse diventata l'intelaiatura di base su cui poi fondere degli altri enzimi effettori che quindi poi possono fare anche altre cose per esempio illuminare i geni oppure accenderli e spegnerli senza modificarli in modo permanente e molte altre cose ancora addirittura si è arrivati a sviluppare delle varianti di CRISPR che non tagliano più il DNA ma lo modificano senza tagliare si chiamano correttori di base e quello che fanno è graffiano appena solo uno dei due filamenti e sull'altro apportano una modifica chimica che cambia direttamente l'identità di una lettera del DNA in un'altra lettera nella lettera desiderata per questo si parla di editing del genoma perché è un po' come se fosse davvero una revisione editoriale se il genoma è come un grande testo il grande libro della vita un grande libro di ricette per costruire un organismo vivente a seconda del grado di enfasi che vogliamo dare alla sua funzione CRISPR consente di correggere i refusi di muoversi all'interno di questo testo la CAS9 posizionandosi in maniera mirata è come se fosse il cursore che posizioniamo nel testo nel punto in cui vogliamo intervenire oppure possiamo immaginarlo come un sistema che assomiglia alla funzione trova e sostituisci di Word vi faccio vedere brevemente il perché questa è un'applicazione molto recente che è stata fatta sul topo per correggere con un correttore di basi una mutazione che causa la progeria che è una malattia molto grave causata dalla presenza di una lettera T che invece dovrebbe essere una lettera C quindi utilizzando questa variante di CRISPR perché il correttore di geni è possibile effettuare questa il correttore di basi è possibile effettuare questa sostituzione la progeria è una malattia molto grave perché determina un invecchiamento precoce di molti organi nei bambini anche molto molto piccoli per cui accorcia moltissimo la loro vita e nel topo questa sostituzione della singola lettera fatta con il correttore di basi ha raddoppiato l'aspettativa di vita dei topi quindi un grande successo e si spera di passare presto a una sperimentazione clinica perché sapete che la sperimentazione ha diversi step prima si parte in vitro poi si fa la parte sul modello animale dopodiché se i risultati sono buoni si può passare alla sperimentazione su soggetti umani con CRISPR siamo già alla sperimentazione su soggetti umani per alcune malattie dunque eccoci qua questa che vedete al centro della foto è Victoria Gray la prima paziente trattata con un trattamento a base di CRISPR il trattamento è avvenuto oltre un anno e mezzo fa Victoria Gray aveva una vita resa molto complicata dall'anemia falciforme e da quando ha avuto questo trattamento a base di CRISPR perché le sono state prelevate cellule del midollo sono state corrette e poi sono state reinfuse alla paziente beh Victoria Gray non ha più avuto crisi dolorose non ha più avuto bisogno di trasfusioni qui la vediamo insieme ai suoi figli l'anemia falciforme è una malattia molto diffusa tra diciamo è una malattia rara ma molto diffusa tra le malattie rare soprattutto nelle popolazioni afrodiscendenti quindi e anche nel Mediterraneo per cui tante persone potrebbero giovarsi di questo tipo di trattamento quello che si è fatto siccome questa malattia è causata da un difetto nel gene dell'emoglobina per ora non è stato aggiustare il gene difettoso dell'emoglobina adulta ma riattivare il gene dell'emoglobina fetale che non era difettoso e che quindi ha potuto svolgere le funzioni che il gene dell'emoglobina adulta di Victoria Gray non era più in grado di svolgere si tratta di un risultato bellissimo che ha dato così molta speranza ecco al settore finora abbiamo parlato di cambiare quindi il DNA di operare correzioni nelle cellule adulte di un individuo già nato come Victoria Gray quindi nelle cellule somatiche si parla quindi di editing somatico se invece volessimo operare le correzioni all'interno di un embrione ai primi stadi di sviluppo oppure all'interno di cellule uovo o spermatozoi quindi la linea germinale si tratterebbe di qualcosa di profondamente diverso perché quelle cellule germinali o quell'embrione andrebbero poi a creare un individuo che porta la modificazione genetica in tutte le sue cellule comprese le cellule riproduttive e quindi questa modificazione genetica verrebbe ereditata dalla sua progenie quindi entriamo nel campo molto più delicato dell'editing germinale o editing ereditabile la comunità scientifica è convinta che non siamo ancora abbastanza sicuri per poter fare questo salto e quindi diciamo che è qualcosa che viene assolutamente discusso ma sconsigliato in questo momento dalla comunità scientifica ci sono state anche richieste di moratorie per esempio ciò nonostante un ricercatore in Cina ha fatto questo passo ha varcato questa linea rossa nel novembre del 2018 è accaduto con grande sconcerto della comunità scientifica internazionale è arrivato l'annuncio da parte di questo ricercatore che si chiama AJK che ha annunciato la nascita di Lulu e Nana si tratta di due pseudonimi naturalmente che si riferiscono a due gemelline di cui non conosciamo la reale identità e che sono state editate con CRISPR allo stadio embrionale questo tipo di intervento che è stato eseguito ha scelto come gene bersaglio un gene che si chiama CCR5 e che è la porta d'ingresso del principale ceppo di HIV quindi il virus che causa l'AIDS nelle cellule quindi l'intento di questo ricercatore era far nascere le due bambine immuni all'AIDS in realtà l'esperimento non è stato svolto bene per cui probabilmente queste bambine hanno la correzione solo in alcune cellule non in altre quindi sono quelli che si chiamano mosaico ma è stato criticato all'esperimento anche per molti altri motivi intanto perché la scelta di questo gene non è condivisa in generale dalla comunità scientifica per quanto riguarda il rapporto rischio-beneficio queste bambine non questi embrioni che poi da cui poi si sono sviluppate le due bambine erano embrioni sani quindi applicare una tecnica di frontiera che ovviamente come tutti i tipi di intervento di frontiera comporta dei rischi a degli embrioni sani non è una scelta eticamente difendibile potrebbe essere stata difendibile se si fosse trattato di correggere un difetto che se non fosse stato corretto avrebbe causato una gravissima malattia alle due bambine allora il rapporto rischio-beneficio forse sarebbe stato più favorevole in ogni caso la comunità scientifica non considera CRISPR ancora abbastanza testata sicura per poter effettuare nemmeno questo tipo di interventi inoltre poi ci sono stati tutta una serie di altri problemi diciamo di mancata trasparenza problemi etici eccetera per cui questo ricercatore è stato condannato da un tribunale cinese a tre anni di carcere ed è tuttora in prigione delle due bambine non abbiamo più saputo nulla non sappiamo nulla della loro stato di salute perché è scesa una cortina di segretezza quindi vedete per quanto riguarda CRISPR ci sono tantissime applicazioni diverse alcune sono assolutamente entusiasmanti condivisibili considerate diciamo un grande avanzamento dalla esiste consenso scientifico su questo altre invece sono molto discutibili come questa applicazione qua dell'editing ereditabile quindi non ha senso diciamo essere favorevoli o contrari a CRISPR e all'editing genomico ha senso valutare le singole applicazioni distinguere caso per caso e su questo decidere diciamo cosa consentire come regolamentare cosa vietare questo appunto un percorso che stiamo facendo insomma come collettività anche a livello internazionale ci sono diversi storie ricerca in cui appunto si deve decidere che tipo di regole attuare sull'editing genomico e sono i settori di ricerca di cui probabilmente sentiremo parlare perché ci saranno diversità di opinioni controversie per cui vorrei raccontarvi brevemente quali sono diciamo queste controversie su cui potremo tutti quanti essere chiamati insomma a ragionare a prendere una posizione la prima appunto riguarda l'editing ereditabile la prima di queste tre controversie per il futuro e la domanda è sì d'accordo l'esperimento cinese era criticabile ed è stato criticato ed è stato un errore ma l'editing ereditabile è sempre sbagliato sarà sempre sbagliato beh questa è una domanda su cui è lecito avere posizioni differenti c'è chi vi risponderà di sì chi vi risponderà di no io tendenzialmente sono un po' per la scala dei grigi insomma il mio la mia risposta è un dipende perché la comunità scientifica è in generale il baricentro della posizione della comunità scientifica si sta orientando sul distinguere sul dire ok non siamo ancora pronti per intraprendere questa strada ma se la tecnologia ci desse tutte le garanzie di affidabilità che sono necessarie per intervenire in maniera ereditabile sul genoma umano se avessimo le conoscenze genomiche abbastanza approfondite da farlo con una sufficiente sicurezza beh allora forse questo tipo di intervento sarebbe ipotizzabili per le malattie molto gravi quelle per cui non esistono metodi alternativi per risolvere il problema va detto che oggi una coppia in cui un aspirante genitore sia portatore di un grave difetto genetico non ha bisogno nella gran parte dei casi di CRISPR e dell'editing genomico per mettere al mondo dei figli sani che siano biologicamente suoi perché esiste una strada più semplice già più testata sperimentata che è la diagnosi genetica preimpianto cioè se si producono con la fecondazione assistita degli embrioni è possibile testarli verificare se tra questi ce n'è qualcuno che non ha ereditato il difetto genetico beh si può scegliere quell'embrione da trasferire in utero per avviare la gravidanza quindi questo renderebbe inutile l'idea di correggere il difetto genetico nell'embrione quindi diciamo che comunque l'editing ereditabile anche se un giorno dovessimo sentirci abbastanza sicuri delle nostre conoscenze della nostra tecnologia per volerlo fare potrebbe essere una soluzione solo per un numero piccolissimo di persone davvero qualche dozzina di persone in tutto il mondo un'applicazione davvero di nicchia i filosofi poi i bioticisti si stanno interrogando su comunque dove andrebbe posto lo spartiacque tra le condizioni abbastanza serie da poter essere trattate in maniera ereditabile con l'editing e quelle non abbastanza serie non abbastanza gravi da giustificare l'utilizzo di una tecnologia comunque di frontiera ci sono alcuni casi che sono chiaramente in cui è facile distinguere i due campi e tracciare una linea l'enemia falciforme dicevamo una malattia molto grave potrebbe avere un senso se ci sentissimo di avere le conoscenze genomiche abbastanza solide da giustificare un intervento ereditabile l'albinismo è una condizione con cui si vive bene per cui non avrebbe senso come rapporto rischio e beneficio un intervento del genere tantomeno potrebbe avere senso per applicazioni frivole di tipo estetico o di tipo di performance atletica o per aumentare l'intelligenza si tratta però vorrei ribadirlo di dibattiti teorici perché tutti questi caratteri e questi tratti che ho appena nominato sono tratti complessi che non dipendono da uno o pochi geni ma da centinaia anche migliaia di geni per cui davvero non abbiamo assolutamente le conoscenze per progettare a tavolino un bambino perfetto un bambino super intelligente per cui diciamo è un discorso più fantascientifico oppure più filosofico diciamo adesso passiamo a una seconda domanda che è meno drammatica di questo riguarda le applicazioni agroalimentari modificare le piante cambiando solo qualche lettera quindi senza inserire geni estranei vuol dire che il risultato non sarà transgenico ma comunque ha una modificazione genetica mirata simile alle mutazioni che avvengono in natura le mutazioni avvengono continuamente anche adesso noi alla fine di questa lezione ci alzeremo e qualcuna delle nostre cellule sarà mutata perché si è divisa e ha accumulato qualche mutazione quindi se noi riusciamo a ottenere un cambiamento utile cambiando anche semplicemente una, due, tre lettere senza inserire materiale estraneo in una pianta e otteniamo un risultato utile per esempio per diminuire l'applicazione dei pesticidi questa pianta va regolamentata come se fosse un OGM oppure no questa è una discussione che è in corso a livello della commissione europea perché la regolamentazione sugli OGM è stata decisa messa a punto decenni fa quando CRISPR e l'editing genomico non esistevano per cui probabilmente sarà necessario un aggiornamento della normativa per tenere conto degli avanzamenti tecnologici passo all'ultima controversia perché vedo che il tempo inizia a scorrere e riguarda un'altra applicazione molto molto interessante molto ambiziosa e molto controversa che è quella di utilizzare CRISPR per superare l'ereditarietà mendeliana e quindi entrare in una situazione di ereditarietà super mendeliana che cosa vuol dire sappiamo che ogni gene è presente in due coppie quindi abbiamo due alleli supponiamo di chiamarli un allele rosso e un allele giallo i figli di una persona che quindi è eterozigote perché ha un rosso e un giallo metà dei figli riceveranno il rosso e metà riceveranno il giallo ecco con uno stratagema genetico basato su CRISPR si può fare in modo che tutti i figli ricevano il rosso ad esempio se vogliamo favorire la trasmissione del rosso i gene drive sono degli acceleratori della diffusione di geni che potrebbero essere utili per esempio non certo sull'uomo su questo non lo ipotizza davvero nessuno perché si tratta di uno stratagema che può essere usato per organismi che abbiano dei cicli vitali molto brevi ma potrebbe funzionare per esempio nelle zanzare vettrici di gravissime malattie come la malaria quindi le anofeles gambe si sta lavorando a questo obiettivo per ottenere delle zanzare non zanzare qualunque come quelle che abbiamo alle nostre latitudini ma solo proprio i vettori della malaria per fare in modo che di ottenere la nascita solo di individui maschi grazie a questi gene drive che non pungono che non troverebbero poi dopo un po' femmine con cui accoppiarsi per cui la popolazione locale delle anofeles collasserebili e la trasmissione del plasmodio si fermerebbe questo quindi è come se avessimo diciamo un pulsante pigiandolo possiamo di fatto causare un'estinzione localizzata di una specie nociva e salvare 400.000 persone l'anno la domanda è chi deve decidere se pigiare questo pulsante io credo che debbano essere le popolazioni dei paesi dell'Africa subsahariana dove la malaria colpisce ancora duramente in maniera tragica ma la questione chi deve decidere come regolamentare le applicazioni controverse dell'editing genomico è una questione più generale tutte le società scientifiche internazionali i comitati etici hanno pubblicato decine e decine di rapporti è stato proposto la creazione di osservatori globali sono stati fatti summit internazionali conferenze in cui scienze e società hanno parlato e questo è un dibattito che è stato avviato subito dopo l'invenzione di CRISPR e che è ancora in corso le parole d'ordine sono democrazia partecipativa innovazione responsabile precauzione ma anche proporzionalità nella regolamentazione fiducia nella scienza etica sviluppo sostenibile pluralismo equità di accesso questo dialogo non può essere solo un dialogo dall'alto verso il basso lo scienziato che spiega e la gente che ascolta deve essere un dialogo multidirezionale circolare con un vero scambio la cosa bella di CRISPR che è stato avviato subito e che è in corso ed è molto importante ovviamente che anche la scuola faccia parte di questo dialogo circolare per cui sono contenta insomma di avervi accompagnato in questo percorso che è un inizio di riflessione chi vorrà continuarlo appunto può continuare a seguire gli sviluppi di CRISPR tecnologici anche per quanto riguarda le sue applicazioni calate nella società sul mio blog CRISPR mania nel mio libro di cui sta per uscire l'edizione aggiornata esce il 13 maggio con tutte le ultime novità con questo finito e quindi sono a vostra disposizione per le vostre domande bene grazie Anna sei stata chiarissima anche è stato un bel racconto e quindi insomma ti ringrazio anche i docenti e credo anche qualche studente in chat sono arrivate ovviamente tantissime domande alcune più diciamo su il sistema CRISPR cassa al naturale per così dire altre invece sulla loro applicazione biotecnologica alcune di queste rimandano a ovviamente problematiche inerenti alla bioetica tu ne hai parlato giustamente nell'ultima parte del tuo talk ma se qualcuno volesse approfondire a questo punto rimando direttamente al talk che ha fatto il dottor Agnoni settimana scorsa e che ritrovate in te liste ritroverete in te liste anche questo di Anna sulla sito youtube sul canale youtube allora passo alle domande senza indugiare oltre allora ci chiedono innanzitutto come viene veicolato il sistema CRISPR Cas9 nella cellula target quindi elettroporazione permeabilizzazione come viene veicolata in vivo la proteina se ci sono dei recettori di membrana specifici insomma proprio come entra all'interno di una cellula eukeriotica si ci sono diversi sistemi allo studio si può utilizzare un virus come nella terapia genica classica il problema della Cas9 che è una proteina ovviamente abbastanza grandicella per essere una proteina quindi questo è un po' forse il suo punto debole proprio veicolarla all'interno però può essere veicolata per esempio anche esistono per esempio topi già predisposti per la Cas9 a cui bisogna solo somministrare la guida allora in quel caso è facilissimo il futuro forse per il delivery che quindi è questo il veicolare e il sistema dentro le cellule potrebbe anche essere venire dalle nanotecnologie da nuovi nanomateriali però è assolutamente il settore su cui si stava lavorando di più perché da lì davvero dipenderà molto dello sviluppo di questa tecnologia quindi è assolutamente un settore caldo della ricerca in questo momento ok qualcun altro si fa una domanda ancora più specifica ovvero sì una volta che Cas9 è all'interno della cellula bersaglio come riconosce il DNA ovvero riconosce il DNA nudo anche quello legato agli stoni in che tipo di cromatina ma come allora a quel punto se il DNA fosse condensato potrebbe accedere Cas9 alla sequenza target e così via e la cosa incredibile non era affatto scontato ma riesce a lavorare anche con la struttura più compatta del DNA eucariotico anche se si è evoluta con il DNA procariotico per cui la srotola e riconosce la sequenza ovviamente ha bisogno di un sito d'ancoraggio insomma che sono le sequenze PAM quindi ci sono tutta una serie di tecnicismi per cui per esempio si lavora con CAS diversi anche per avere diversi tipi di siti d'ancoraggio insomma per cui c'è tutta una grammatica molecolare da sviluppare e la bioinformatica ha tantissimo importanza per lo sviluppo di questo settore di ricerca ma la CAS la cava anche bene con la cromatina assolutamente invece diciamo passando al sistema originario e quindi come si è evoluta come sistema immunitario batterico ci chiedono se la patina CAS taglia il genoma fagico in un punto qualsiasi dopo l'infezione o in prossimità di siti specifici e come fa un batterio ad avere già delle CAS 9 in grado di riconoscere i virus estranei per poi demolirli le sintetizza successivamente ad incontri precedenti con gli stessi virus o sono comparse in seguito a mutazioni favorevoli che mettono il batterio nella condizione di difendersi da questi virus li acquisisce con il contatto con i virus e li riceve anche in eredità dalle cellule madri ecco insomma per cui è un patrimonio un libretto delle vaccinazioni tra virgolette che si accresce queste scoperte sono state una delle inizio insomma dell'avventura di CRISPR è stata proprio perché si è scoperto che i fermenti lattici quindi sopravvivevano alle infezioni virali se avevano già questo tipo di sequenze per cui una curiosità è che il CRISPR naturale non quello biotech è già la base delle colture microbiche che vengono utilizzate nell'industria casearia insomma nella produzione dello yogurt il riconoscimento con il DNA fagico dipende appunto dalla sequenza dell'identikit che riceve in dotazione la cellula che ha nel suo libretto diciamo nel suo archivio degli identikit per cui c'è una corrispondenza di lettere e adesso qualche domanda un po' più generale ovvero sia il sistema CRISPR diciamo gli organismi modificati con questo sistema vengono definiti organismi geneticamente modificati o ancora le cose sono separate allora la definizione di organismi geneticamente modificati è una definizione legale politica quindi dipende può evolvere anche dipende da come viene definito OGM nelle regolamentazioni di riferimento che poi a livello europeo è principalmente una direttiva che si chiama 2001-18 secondo la Corte di Giustizia europea gli organismi editati con CRISPR ma anche con altri sistemi che consideriamo convenzionali come la mutagenesi indotta sono tutti OGM il problema è che comunque nella direttiva esiste un annesso di eccezioni cioè pur essendo OGM non si applicano le regole in questo elenco di eccezioni sono previste molte tecnologie classiche ovviamente non CRISPR perché non esisteva quando è stata fatta la direttiva e quando è stato fatto l'annesso per cui si sta discutendo di come risolvere diciamo questa impasse ecco se sappiamo che l'Europa è insomma storicamente abbastanza guardinga nei confronti dei vecchi OGM come si sta muovendo adesso ce l'hai già parzialmente raccontato ma quali sono i modi che ha insomma la comunità europea per limitare incidenti come quello cinese e per far sì che CRISPR sia usata nel modo più legale possibile insomma se torniamo alle applicazioni sull'umano beh nella gran parte del mondo occidentale e non solo anche orientale esistono anche in Cina in realtà esistono delle regole tant'è vero che è stato in prigione il ricercatore esistono regole molto chiare che vietano interventi genetici sugli embrioni per cui non c'è un vuoto normativo nella maggior parte dei paesi i paesi che non hanno ancora legiferato in queste cose per esempio insomma sono spesso paesi africani insomma in Italia paradossalmente ci troviamo in una situazione in cui non è lecito ma con eccezioni per cui nella cartina delle policy delle politiche sull'editing del genoma umano compariamo con pochissimi altri paesi in giallo ma si tratta un po' di una stranezza dovuta al fatto che non abbiamo completato la ratifica di una convenzione la convenzione di Oviedo e del fatto che l'articolo della legge sulla fecondazione assistita che parla di manipolazione degli embrioni è scritto in una maniera tale che non prevedeva l'arrivo di CRISPR Cass per cui di fatto diciamo si tratta di una curiosità dal punto di vista legale ma nessuno in Italia ha alcuna intenzione di mettersi a fare questo e nessun comitato etico ospedaliero approverebbe qualcosa del genere quindi direi che possiamo stare tranquilli la disavventura del ricercatore cinese credo sia stato un monito a eventuali ricercatori spregiudicati che magari potevano avere intenzione di emularlo diciamo che gli è andata molto male per cui io spero davvero che nessuno voglia seguire le sue orme c'era un ricercatore russo che era intenzionato a fare editing per i geni della sordità ma si è fermato quindi insomma per ora non ci sono rischi incombenti ecco ma se volessimo elencarli quali potrebbero essere gli effetti avversi non diciamo di CRISPR ovviamente utilizzato su embrioni ma in generale di CRISPR utilizzato per la cura di malattie monogeniche insomma come abbiamo visto per l'anemia falcifonda ma quello che bisogna valutare sempre è un trade off un bilanciamento di rischi e benefici per questo si dice di utilizzarla nei casi in cui se non si cura se non si tenta il trattamento comunque quella persona lì ha una aspettativa di vita bassa e anche delle sofferenze per cui si tratta di bilanciare nessuna tecnologia come nessun farmaco è perfetto è esente da effetti collaterali e rischi per cui qualche rischio ovviamente ce l'ha anche CRISPR CRISPR potrebbe sbagliarsi per esempio e tagliare fuori bersaglio è qualcosa che accade molto raramente però oppure potrebbe diciamo tagliare via un pezzo anche diciamo on target dove c'è il suo bersaglio ma magari un pezzo troppo grosso potrebbe compiere qualche errore che cosa si sta facendo per ridurre sempre più questo rischio si sviluppano via via varietà di CRISPR sempre più precise per esempio quelle che vi dicevo che non tagliano più ma modificano diciamo abbassano moltissimo il rischio di questo tipo di effetti indesiderati ovviamente aumentare la precisione vuol dire ridurre l'efficienza per cui bisogna trovare tutto un bilanciamento nei protocolli per ottenere il livello diciamo migliore a seconda del singolo esperimento della singola applicazione si fanno moltissimi studi bioinformatica per scegliere bene i bersagli in maniera tale che il rischio che esistano sequenze simili sia il più basso possibile per cui c'è tutto un lavoro per perfezionare questa tecnologia che è ancora in continua evoluzione se non vado errata adesso da quelli che sono i miei ricordi insomma di letture in proposito anche le diverse casse possono si può giocare anche sull'utilizzo delle diverse casse se non ricordo male per diciamo modificare l'attività di CRISPR o sbaglio sì sì assolutamente si possono esistono casse diverse casse che vengono cercate nel mondo microbico che è ancora in larga parte inesplorato ci sono casse che vengono sviluppate in laboratorio in maniera razionale quindi secondo le conoscenze oppure con l'evoluzione diretta cioè lasciando evolvere le molecole poi andando a cercare quelle che hanno le caratteristiche utili quindi con un approccio evoluzionistico ci sono davvero nuove evoluzioni di CRISPR una per esempio è anche arrivata in Italia al laboratorio di Trento di Anna Cereseto ha sviluppato una casse che si chiama EvoCas9 proprio con questo approccio evoluzionistico esistono anche le anti-CRISPR questo forse non l'abbiamo detto cioè esistono gli strumenti sviluppati dai faggi per difendersi dalla CRISPR nei batteri che possono essere utilizzati per esempio per spegnere l'attività di CRISPR e per non farla andare avanti troppo a lungo quindi insomma questa guerra tra microorganismi che è vecchia davvero risale alla notte dei tempi ci sta insegnando attraverso il pensiero evoluzionistico tante cose che poi possiamo portare anche dentro ai laboratori e utilizzare per affinare anche le strategie biotech affascinante davvero affascinante anche io lo dico da biologa guarda stanno continuando ovviamente ad arrivare ancora domande dai docenti ti faccio davvero l'ultima abbiamo parlato di malattie genetiche piuttosto che di modifiche a cellule esomatico germinali qualcuno ci ha fatto la domanda sull'impiego di CRISPR in relazione alla cura dei tumori qualcosa è stato fatto e quali sono le aspettative di questa tecnica sì sì è un campo importantissimo intanto a livello di ricerca di base di fatto disattivando modificando tutti i geni uno per uno insieme in gruppi eccetera si stanno costruendo le mappe dei geni tumorali e questo è un settore importantissimo poi si stanno utilizzando ci sono delle sperimentazioni in corso anche proprio per utilizzare CRISPR su pazienti che hanno un particolare tipo di tumore per diciamo aiutare la risposta immunitaria a prendere di mira meglio il tumore per cui si tratta di coniugare l'immunoterapia all'editing genomico per ora questa sperimentazione è solo all'inizio per cui i primi lavori pubblicati dimostrano che è sicura ma non ancora che è efficace perché ci sono diversi livelli di sperimentazione e la prima ovviamente deve dimostrare la sicurezza insomma per cui assolutamente è un settore importantissimo su cui si sono riposte delle speranze certo potenziale enorme va bene con questo io davvero concludo ringrazio ringrazio Anna ringrazio tutti i docenti e gli studenti all'ascolto per quei docenti che ce l'hanno chiesto volevo assicurarli insomma che il video di Anna Mendolesi rimarrà disponibile sul canale youtube di Mondador Education nella playlist dedicata a lezioni di scienza così come insomma questa presentazione in formato pdf sarà scaricabile dalla pagina dedicata a lezioni di scienza sul nostro sito ringrazio ancora una volta Anna spero di ritrovarti magari nel prossimo ciclo di lezioni di scienza a parlare degli avanzamenti di questa di questa tecnica e magari di qualche altra tecnica di editing genomico che nel frattempo è venuta alla riparta grazie a tutti e buona serata volentieri a presto buon lavoro agli insegnanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti